Salgono a sei le vittime dell'influenza stagionale. Altre due persone, un 58enne e un 71enne, entrambi con gravi patologie pregresse non sottoposte a vaccinazione antinfluenzale, si aggiungono alle quattro vittime pugliesi registrate fino al 5 gennaio scorso in Puglia. Dieci persone sono invece ricoverate in gravi condizioni. A renderlo noto la responsabile dell'osservatorio epidemiologico regionale, professoressa Cinzia Germinario, secondo la quale il picco dei casi influenzali è atteso probabilmente per la prossima settimana, subito dopo dovrebbe cominciare la fase discendente. Raffrontando il numero dei casi di influenza registrati nell'ultima settimana di dicembre 2017, 12 su 1000, con quelli dello stesso periodo del 2016, 8 su 1000, si vince, spiega la Germinario, che mai in Puglia, nemmeno con la pandemia influenzale del 2009, erano stati registrati tanti casi come quelli di quest'ultimo periodo. Tuttavia, aggiunge, questo non deve creare allarmismo, perché vi sono alcune regioni italiane in cui i casi influenzali sono maggiori di quelli registrati in Puglia. Per quanto riguarda gli ultimi due decessi, si tratterebbe di pazienti affetti da gravi patologie per i quali l'influenza ha provocato un peggioramento della situazione di base.